Dai muoviti Dai Cos'è che cresce? Una pianta di fagioli grande grande fino alle nuvole Più grande di te? Sì E poi ci arrapichiamo fino in cima alla pianta Sì E diventiamo la principessa sul pisello No ma questo è un fagiolo No ma papà Siamo gli esploratori Noi siamo gli esploratori della pianta del fagiolo Sì Ma da qua che cosa spunta? Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale Io sono Maurizio E io sono Emma Oggi proviamo un esperimento particolare Scienza Scienza mischiata con la natura Facciamo crescere i fagioli in casa Oggi, domenica 17 maggio Iniziamo il progetto del fagiolo Facciamo crescere un fagiolo in casa Un esperimento di scuola Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale Di mettere un bel like E di cliccare la campanellina Così ad ogni episodio che noi pubblichiamo Verrete avvisati in modo da seguirci sempre Grazie ragazzi Ora partiamo Quindi partiamo con l'occorrente Che adesso Emma ci spiega Partiamo con Il cotone Fagioli 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 senza pubblicità Acqua e un vassoio Vi ricordo che questo esperimento possiamo farlo con qualsiasi legume secco Giusto? Sì Ok Adesso Tendiamo il cotone Oh papà Vai strappa Strappa Vai Eh lo faccio io papà Schiaccia Schiaccia Un Due Fatto Di più Di più Dai mettete di più Sennò non posso mangiare i fagioli stasera No Cos'è che spunta qua? Fagioli grande grande La preparazione dell'esperimento è finita Adesso vediamo crescere la pianta giorno dopo giorno Bisogna posizionare il vassoio in un luogo non troppo soleggiato A temperatura ambiente E innaffiarlo tutti i giorni Questo per noi è il secondo esperimento Il primo filmato sull'insalata e i cetrioli Quello con il libro di Margherita Huck E vi metto anche la foto perché è venuto una foresta È cresciuta tantissimo vero? Una foresta di insalata Sì Ok L'abbè già mangiata? No No neanch'io Oggi ce la facciamo E adesso vi facciamo vedere le foto della crescita del fagiolo E adesso vi facciamo vedere le foto della crescita del fagiolo E adesso vi facciamo vedere le foto della crescita del fagiolo E adesso vi facciamo vedere le foto della crescita del fagiolo E adesso vi facciamo vedere le foto della crescita del fagiolo E adesso vi facciamo vedere le foto della crescita del fagiolo E adesso vi facciamo vedere le foto della crescita del fagiolo E quindi ho una figura stiamo qua senza dire niente Prova 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 Sotto pitiamo questo Sopra mitiamo questo Dopo Con Partiamo con rock corrente Prova 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 È troppo duro Grazie per la visione!